Musica Finisce in parità con il risultato di 1 a 1 l'allenamento congiunto domenicale allo Iacovone B tra il Taranto e il Rotonda con il vantaggio degli Ionici al quindicesimo del primo tempo con la rete di Sant'Arpia e il pari Lucano a metà ripresa realizzato da Diop il tecnico la terza ha inizialmente schierato i suoi con Sposito in porta in difesa Boccia, Guastamacchia, Caldore e Marino in mediana Marsili e Matute in avanti i tre incursori offensivi Guaita, Lagzire e Sant'Arpia a supportare Alfageme terminale offensivo più avanzato, assenti tra i rosso-blu li infortunati Corvino e Ferrara a riposo precauzionale Gonzales presente a bordo campo insieme al neo acquisto Stracualursi mentre l'ander azzarito non rientrerebbe più nei piani del club la cronaca con il Taranto che passa in vantaggio al primo vero affondo Ruggero perde palla, Alfageme serve Sant'Arpia che fredda il portiere Polizzi proteso in uscita le squadre vanno a riposo con il vantaggio Tarantino in una frazione avida di occasioni da rete ad inizio ripresa i rosso-blu sono subito pericolosi con la punizione di Marsili smanacciata in corner da Polizzi al diciottesimo il rotonda agguanta il pari con un tiro cross di Diop che inganna il portiere Sposito inizia la girandola delle sostituzioni con il Taranto che arretra il baricentro prestando il fianco alla manovra dei Lucani che comunque risulta infruttuosa nel finale gli Ionici restano in dieci a seguito dell'espulsione di Caldore per proteste finisce uno a uno, da domenica prossima sarà campionato con gli Ionici impegnati in trasferta contro il Picerno e Carlo grazie a tutti ciao